Siamo qui con il mister Catanzariti, il mister dell'Atletico Bainzizza, un Bainzizza che non si ferma da 12 partite, 12 risultati consecutivi. Mister, questi ragazzi oggi? Oggi è stata una partita strana perché il caldo ha influito tanto, non è stato facile per niente, a rispetto del punteggio abbiamo faticato un po' più, i ragazzi ormai hanno preso una consapevolezza dei loro mezzi che ci dà la possibilità di reagire un minuto dopo l'errore, questa è la cosa più importante che vedo, al di là della classifica, del punteggio finale, li vedo pronti, devo parlare poco in partita, abbiamo ancora qualche momentino di assenza ma i ragazzi sono pronti a recuperare. Infatti abbiamo visto una squadra molto matura che adesso si stanno vendendo i frutti, anche che riguarda la preparazione. Assolutamente, il merito è il nostro preparatore Georgi Angleov, sta facendo un lavoro straordinario, i ragazzi corrono tutti, non li devo mai cambiare per un problema fisico o mancanza di fiato, stanno tutti bene, mi mettono in difficoltà, sono contento di questo. Un po' come hai visto la partita, qualche impressione? Sapiamo che era una partita difficile, abbiamo provato il primo tempo, poi abbiamo sbagliato alcune uscite, poi abbiamo uscito a palla, abbiamo preso due o tre gol una pesta all'altra e quello è stato un po' il love motive della partita. Poi il secondo tempo abbiamo giocato un po' meglio, abbiamo tenuto un buon quarto d'ora però siamo riusciti a fare gol, una volta che abbiamo alzato la squadra abbiamo preso dei contropiedi e la partita è andata male, abbiamo provato.